BATISTE SETTANTA FON CARI ELETTORI DI BATISTE SETTANTA FON Oggi vi presento una delle ultime applicazioni degli amici di sviluppo 4Mobile è praticamente un dizionario dei sinonimi e dei contrari abbiamo ben 23.637 termini presenti sono 119 pagine qui abbiamo la possibilità di avanzare i successivi 200 termini praticamente le successive 200 pagine abbiamo la possibilità di impostare dei termini preferiti abbiamo la possibilità di vedere la cronologia degli ultimi termini ricercati allora inseriamo ora un termine da cercare che ne so, cerchiamo contento eccolo qua, presente andiamo a vedere abbiamo i sinonimi e abbiamo i contrari come potete vedere scontento per scontento abbiamo anche qua i vari sinonimi e abbiamo i vari contrari potete prendere ad esempio ed inviare via mail a una persona, a un vostro amico appunto l'etimologia della parola con vari sinonimi e vari contrari ora eliminiamo la bozza oppure lo potete mettere nei vostri preferiti poi andate nei preferiti e ve lo ritrovate qui avete la cronologia di tutto quello che avete cercato e poi qua potete tornare nella pagina dei termini una volta che avete cercato potete finire fate l'annulla e tornate di nuovo nei termini per così ne potete ricercare degli altri informazione niente, sviluppo for mobile scopri tutte le nostre app e avete qua i vari link per contattare gli sviluppatori non c'è niente altro da dire l'applicazione è fatta veramente bene come al solito anche dal punto di vista grafico è molto utile basta con questo concluso un saluto da Loris Aglias Battista 70 per Battista 70 4 Battista 70 4 the human sensor technology Pianchilistra 70 5 Pianchilistra 70 4 per la